Marco Pt. Oggi parliamo di metabolismi energetici, soglia lattacida, soglia anaerobica lattacida e soglia aerobica. Quindi con tutti gli annessi connessi in merito al time under tension e le attivazioni specifiche di questi metabolismi energetici. In attesa che si colleghino gli utenti, io parto con il mio solito incipit e poi sono disponibile alle domande. Questa sera volevo parlare di come gestire la dieta estiva, primaverile estiva, come gestire anche le sessioni di allenamento. Allora, è una prassi comune abbassare i carboidrati all'arrivo dell'estate. Quindi quando l'estate arriva si abbassano i carboidrati. I carboidrati sono il combustibile principale per le attività muscolari e poi anche a livello cerebrale. Sono importantissimi in quanto il glicogeno è la prima fonte di sostentamento cerebrale. Allora, una cosa che volevo dire stasera riguarda la gestione del training quando si tengono bassi i carboidrati. Premesso che per me i carboidrati potrebbero anche non esistere in quanto io mangio principalmente fibre, proteine e grassi. Però comunque in inverno mi concedo i carboidrati, poi in estate, primavera, estate, ritaglio. Allora, secondo la mia opinione, secondo la mia esperienza, sotto dieta stretta, quando si abbassano parecchio i carboidrati, sia necessario svincolarsi dalla soglia lattacida che appunto è legata all'assunzione di carboidrati. Ciao Vincenzo. Quindi, su quale soglia energetica, su quale finestra energetica concentrarsi quando si abbassano i carboidrati? Questa è la domanda chiave di stasera. Secondo la mia opinione ed esperienza... Sì, il cartone è bucarellato, no? Dopo ve ne parlo. Secondo la mia opinione ed esperienza, quando si abbassano i carboidrati, ci si può affidare a due combustibili. Uno è la creatin fosfato, il secondo sono gli acidi grassi. Quindi, io andrei un po' controcorrente, quindi se in estate si tende a lavorare con alte ripetizioni in soglia glucidica, in soglia lattacida, io direi che sarebbe più forse opportuno spostarsi sulla soglia anaerobica a lattacida, quindi abbassare ulteriormente le ripetizioni e concentrarsi su un training votato al consumo, all'utilizzo, al depauperamento della creatin fosfato. Roberto Maligni, immancabile, buongiorno, buonasera. Allora, in questo caso si ha sicuramente una restrizione calorica, si ha sicuramente un utilizzo dei substrati adiposi, però ci si può comunque allenare con buon profitto, non ottimale chiaramente, ma con un buon profitto, abbassando le ripetizioni. Adesso non dico fare metodo bulgare, non voglio passare per l'estremista, però lavorare comunque entro quella finestra temporale che consente la combustione di creatin fosfato è, secondo me, la strategia migliore per perdere grasso conservando la maggior parte della massa muscolare. Questa è la mia opinione. Quando si abbassano i carboidrati non si può pretendere dal proprio organismo un lavoro efficiente, ottimale, costante. Bisogna correre un po' ai ripari, quindi anche per quanto riguarda l'attività aerobica, io consiglio di utilizzare un'attività cardiovascolare a basso impatto, a bassa intensità, magari anche prolungata, che vada a lavorare sui substrati energetici adiposi, senza dover intaccare le riserve di glicogeno. Quando si passa la parte di pesi, di sollevamento pesi, io consiglio di restare su una soglia anaerobica a lattacida, quindi tra 1 e 3 ripetizioni. Mi rendo conto di andare controcorrente, però anche qua io sento ancora oggi, nel 2022, anno in cui siamo, che in definizione sia necessario tagliare la creatina, perché la creatina darebbe ritenzione idrica. La creatina non dà ritenzione idrica, la creatina spinge acqua nei muscoli, provoca una ritenzione intracellulare, che francamente è anche un fattore positivo per coloro che cercano l'estetica, il turgore muscolare. In buona sostanza, io qua mi ritrovo abbastanza, mi trovo sostanzialmente d'accordo con Claudio Tozzi quando parla di lavoro a intensità polarizzata. Quando si fanno pesi bisogna polarizzare verso l'anaerobico a lattacido e quando si fa aerobica bisogna polarizzare verso l'aerobico. cercando di escludere, di respingere, di confinare, di eliminare il metabolismo dei glucidi. In questo modo si spingerà l'organismo alla produzione endogena di enzimi più preposti alla combustione dei lipidi sottocutanei, degli acidi grassi, dei depositi, dei substrati adiposi, che in realtà non sono altro che materiale isolante e colossale scorta energetica. Allora, dopo questo preambolo, vediamo un po' se ci sono domande. Ci ho messo sei minuti, direi che ci siamo. Buonasera, Velletri, Sparviere. Marco, cosa ne pensi dell'utilizzo della Fat Bar o delle varie Fat Grips? La uso nei vari esercizi di spinta la trovo davvero eccellente. Un mio cliente, Miguel Lopane, che saluto, Bar Margherita a Brescia, lui era un fervente sostenitore delle Fat Grips, scritto con la Z, erano dei turaccioli blu che avvolgeva intorno ai bilancieri che gli consentivano di avere una presa più cicciotta, una specie di grip più difficoltosa. però devo anche dire che la superficie gommata di questi Fat Grips era talmente adesiva che non c'era una grande differenza alla fine. Quindi io consiglio di allenare la presa in un comparto a parte, utilizzando dei gripper, utilizzando altri strumenti, senza cercare di modificare esercizi nati per tutt'altro scopo. I stacchi nascono per cosci e glutei, trasformarli in esercizi per la presa, secondo me non è la cosa ideale, cioè già di passè danno tanto da lavorare alle mani e agli avambracci. estremizzare questo approccio mi sembra francamente controproducente. Simone Farina, grande Marco Pt, grazie ai tuoi contenuti ho raggiunto risultati migliori in termini di forza. Sì, me lo dicono in molti, grazie per la tua testimonianza, apprezzo molto. Alessio, ciao Marco, so che non è una domanda facile, ma quali fattori possono aiutare a capire una persona se è in sovrallenamento o qualcosa della tua esperienza. Ho già fatto un video sull'overtraining, ti invito a guardarlo. Poi teniamo conto del fatto che i sintomi di sovrallenamento sono tanti. Quando compaiono due o tre sintomi è meglio cercare di correre ai ripari. Per questo è anche importante ciclizzare il programma e schivare questi problemi passando da una fase all'altra della ciclizzazione annuale. Riccardo, ma quindi quando si è a dieta conviene abbassare il volume allenante mantenendo la stessa intensità? No, non conviene abbassare il volume allenante. Se tu misuri il volume a serie, non è tanto quello della tua convenienza. Conviene abbassare il range of reps, il range di ripetizioni. Fabrizio, ciao Marco, è spesso detto di non contare le calorie. Posso chiederti in che modo ti regoli per capire se stai assumendo il necessario? Allora, Fabrizio, io innanzitutto ho un intake di macronutrienti essenziali che devo rispettare ogni giorno. Quindi io già soltanto con l'integrazione alimentare, quindi con proteine, creatina, amminoacidi, vitamine e minerali, io mi assicuro ogni giorno di avere tutto quello che mi serve a livello di fabbisogno. Il resto lo faccio col cibo solido. E quindi non ho nessun bisogno di contare le calorie, perché non sono succube dei pasti programmati, non devo girare con vaschette con dentro i broccoli e il pollo. A parte che sono vegano, quindi pollo anche no, ma il discorso è che bilancia e specchio sono due indicatori molto importanti. Poi l'indicatore fondamentale è sempre quello che alzate in palestra. Se voi diventate più forti o mantenete la vostra forza, vuol dire che il tessuto muscolare non è intaccato. Se riuscite a mantenere intatto il vostro tessuto muscolare e perdere grasso al tempo stesso, siete sulla strada giusta senza bisogno di contare le calorie. E questa è la mia opinione. Poi io non sono un nutrizionista, non sono un medico, non sono un biologo, non sono un laureato in scienze dell'alimentazione, quindi prendete la mia opinione per quella che è. Argo. Marco, una curiosità, tu misuri in tonnellaggio o serie per reps? Nell'una o nell'altra. Non credo nel calcolo moltiplicatorio tra serie e ripetizioni, non credo neanche nel cumulo dei chilogrammi sollevati, sono due metodi secondo me nemmeno scientifici per muoversi, per cercare orientamento. Da questo punto di vista, una delle poche cose che aveva azzeccato Mike Manzer era la misurazione del volume, cioè misurato in stimoli allenanti. Mi rendete conto che è una strategia sofisticata, quasi metafisica, però io sinceramente star lì con la calcolatrice a calcolare i chili per ripetizioni, per serie, sembra una cosa francamente indegna dell'epoca moderna o contemporanea in cui viviamo, insomma. Sparviere. Shoulder Horn e Manta Ray. Ti ricordi cos'erano? Le vendevano su Olympians News. Sì, la Shoulder Horn era un apparecchio da mettere sopra le spalle che consentiva di lavorare la cuffia dei rotatori in isolamento. Il Manta Ray era quell'appoggio di plastica per consentire un back squat high bar senza che i praticanti si lesionassero la settima cervicale. Sono anticaglie. Secondo la mia opinione, secondo la mia opinione, non voglio altri avvocati, mezzo coglioni, secondo la mia opinione, sono concetti, sono strumentazioni di scarsa applicazione. Giacomo Iacchi, è costruito il tuo fisico senza mai fare bodybuilding? Suppongo di sì, io non ho mai partecipato a nessuna competizione di bodybuilding, seguo delle split routine una volta all'anno per fare un po' di... per riposarmi anche un po' a livello mentale, ma io non ho mai praticato bodybuilding, non ho mai messo il mallo in vita mia, non ho mai messo un costume da gare a vita mia. Ho costruito il mio fisico con delle tecniche, con delle metodologie attinenti al mondo della forza. Poi è chiaro che ho indirizzato questa programmazione ad esercizi a me e con facenti. Io non sono un powerlifter, non credo che con squat, panca e stacco si raggiungano e si colpiscono tutti i gruppi muscolari principali, quindi ho creato un mio repertorio di esercizi su cui lavorare. Ciao Nino, buonasera. Disco duca, perdi braccio in definizione, se sì, quanti centimetri? Io in definizione perdo le cosce, io in definizione quando abbasso tanto i carboidrati, pur con tutti gli accorgimenti che conosco, perdo parecchia forza nello stacco da terra, nello squat. Poi con più calma, un po' più lentamente, perdo qualcosina anche sopra, però principalmente il corpo attinge aminoacidi essenziali, attinge nutrienti, manda in carestia il comparto più grosso, quindi glutei cosce. Questa è la mia esperienza. Io posso anche mantenere una discreta forza in panca piana, ma perdo anche 40-50 kg di massimale in stacco da terra. Riccardo, la dieta gestisci mantenendo le stesse calorie oppure ciclizzando i carboidrati? Io intanto non conto le calorie, poi i carboidrati li tengo sempre piuttosto bassi. Quando sono in crisi, nel senso quando il mio cervello urla carboidrati e comincia ad avere dei mancamenti, degli annebbiamenti, allora assumo dei carboidrati veloci, ma non mi faccio i tegame di pasta asciutta, quello no. Snacker dovrebbe segnalare questo canale per accesso di informazioni utili, se non grava, ma è la mia missione qua è conclusa. Io quello che avevo da dire l'ho detto, quindi c'è poco da aggiungere insomma. Samuele, cosa consigli la palestra per chi fa sport e endurance? Allora, gli sport e endurance sì, possono avere bisogno di allenamento con resistenze, ma in determinati settori, non a livello globale. Sempre Samuele, perdona la domanda, quanto costa farsi seguire a te in coaching online? Costa è il giusto, secondo me, se mi scrivi una mail, ti do tutte le informazioni in privato, non voglio trasformare questa live in una bancarella, ma di pazienza, se mi scrivi in privato ti rispondo appena posso. Ah, dimenticavo, per chi fosse interessato al coaching online, infocchiocciolamarcopt.it, altrimenti raggiungetemi sui vari social, su Instagram, o anche un canale Patreon, e quindi anche qui siete assolutamente ben accetti. Taylors, in definizione, cercare il cedimento con basse ripetizioni per serie, la frequenza di allenamenti va aumentata, il tempo della seduta ridotto, devo capire un po' come sei messo tu, perché quando si va a modificare un programma di una persona che è già in routine di allenamento, bisogna sapere esattamente dove mettere le mani, quindi questa è roba da coaching, perché non so da dove parti, ho capito dove vuoi arrivare, ma non so da dove parti, quindi non è che posso fare miracoli, devo prima farti una panoramica, farti un'anamnesi e poi capire come procedere. Simone SB, dopo una fase di cut, in una norma calorica i muscoli ne risentono positivamente, non è neanche la domanda, è la tua opinione, va bene. Off topic, raccontaci della Mustang, hai la GT, tira, non posso parlarti troppo della mia Mustang per ragioni diciamo di conformazione del veicolo, quindi ti prego di non, grazie Nino, grazie mille, ti prego di non trascinarmi in questo discorso. Giacomo Iacchi, leve corte ma anche muscoli corti può essere un problema tutto questo. Spesso ci sono persone che hanno delle ottime leve scheletriche, ottime inserzioni tendine, ma grande penuria di fibrocellule in loco, quindi sì, può essere un problema e non è garantito che avendo le leve giuste si possa avere un risultato ottimale. Brabba d'altronde, secondo te sono possibili 200 di militari da natural? Io penso che neanche da dopato, io non ho mai visto 200 chili di militari press a ginocchia distese e ferme, non col saltello, quindi, poi per carità, i limiti dei natural li lascio trattare ad altre persone, non mi compete sinceramente sta facendo più di tanto. Ho le mie opinioni ma sono opinioni. Snooker, Marco, hai mai provato energy drink americane tipo il 5 hour energy bang adrenalin shock and what the fuckers raise eccetera. Io ho provato penso tutti pre-workout in commercio e il fattore chiave è sempre la beta alanina, quella sostanza che vi dà quel pizzicorino sotto la pelle. Dipende più che altro della concentrazione di questo aminoacido. Al momento sto usando un pre-workout che si chiama Extreme Workout number one. Non ricordo la marca. Ho fatto comunque un video sui vari pre-workout ho fatto un video che recensisce una carrellata di pre-workout uno degli ultimi che ho fatto e ti esorto a guardarlo. Riccardo, citrullina o beta alanina? Andrò, la citrullina è sicuramente valido purtroppo è molto aggressiva sullo smalto dentale quindi io ne prendo anche poca. Penso che forse la beta alanina sia preminente rispetto alla citrullina che comunque rimane un eccellente additivo nei vari pre-workout. Antonio Riccardo secondo te quali sono i migliori integratori per pre e post-workout? Allora per i workout pre-workout post-workout sostanzialmente gli integratori che aumentano la tua alternance la tua veglia il tuo essere vigile sono indicati prima di allenarsi poi durante il workout se si va a superare i 90-100 minuti io consiglio anche integratori che abbiano non dico il vitargo però almeno le del malto destrine poi nel post-workout non c'è un vero e proprio integratore post-workout basta fare un pasto solido per recuperare le riserve depauperate dovresti essere a posto insomma. Riccardo per ovviare il problema della citrullina se infatti la diluisce con acqua come pensavo Roberto Maligni cosa ne pensi del ceffone tirato da Will Smith non so neanche se si può parlare di questo argomento perché oggi è bandita qualunque opinione in merito ad eventi sociali io penso che la moglie penso io la mia opinione ripeto perché se no arriva la gestapo io penso che la moglie abbia detto Will Smith guarda che questo qua mi ha mancato di rispetto fai qualcosa Will Smith se la stava ridendo allegramente poi la moglie c'è rimasta male e lui si è sentito si vede toccato poi ha dovuto chiedere scusa praticamente in ginocchio ha dovuto fare ammenda però lì per lì secondo me si è anche sfogato perché io adesso non conosco le dinamiche nello specifico so che sto qua ha preso si è alzato e ha tirato un ceffone a mano aperta contro Chris Rock ma ci ha messo anche l'anca se vedete ha girato anche le anche cioè voleva farlo sentire quindi secondo me di fake non c'è nulla non è una messa in scena è semplicemente una persona che si è sentita appunto nel vivo e che ha reagito fisicamente poi ragazzi il resto io non lo so dipende perché qua si va a parlare di dinamiche comportamentali abbastanza complesse io cosa ne penso ha fatto un gesto sicuramente forte ma comunque hanno insultato sua moglie che soffra di una malattia il fatto è che la moglie di Will Smith Gerda Pinkett che ha fatto anche Matrix 2 e anche Matrix 3 Matrix Revolutions Gerda Pinkett soffriva di una malattia ora io penso questo se Gerda avesse tenuto quella conciatura per un vezzo estetico la battuta poteva anche avere una collocazione razionale ma Gerda Pinkett soffre di una malattia chiamata alopecia penso che ne sape qualcosa anche Domenchio e già per i maschi è una brutta mutilazione estetica per le donne ancora peggio e di infierire su una condizione patologica così così umiliante secondo me è stato un brutto gesto da parte di Chris Rock si riferiva mi pare al film Soldato Jane G.I. Jane però Danny Moore in quel film si era rasato i capelli per recitare una parte mentre già da Pinkett soffriva soffre tuttora di una patologia Argo pensi ci siano modi per aumentare il testosterone senza aiuti esterni secondo me no e della domanda che fai capisco che tu tempo da allenarti ne passi poco il testosterone non deve essere una condizione determinante per te da come scrivi sei anche molto giovane quindi penso che la tua produzione endogena sia sufficiente io consiglio di allenarti allenarti duro perfezionare la tecnica imparare a programmare e poi eventualmente preoccuparti di aumentare la tua disponibilità di testosterone Johnny Mosk cortisone per tendere infiammato qua si va nel campo clinico sei il medico della prescritto io non ho alcun motivo di sentire piccione ma con la glutammica è un integratore valido può essere utilizzato per la perdita non conosco la glutammica conosco la glutammina ah ok si glutammina è l'aminoacido mi risulta più presente nel tessuto muscolare ha funzioni gastroprotetrici ha anche funzioni importanti sul sistema immunitario riesce a passare la barriera la hematoencefalica ha anche una certa ha un certo impatto anche persino sulla coniezione onirica quindi migliora anche la qualità dei sogni che fate mentre dormite a parte quello secondo me non è importante quanto altri amminoacidi comunque un'integrazione di glutammina male non vi fa allora Johnny Mosk era una domanda perché sto pensando di usare il cortisone perché sono otto mesi che ho un'infiammazione che non mi permette di fare panca penso che la tua infiammazione sia erente alla spalla o al tendine pettorale inserzione distale quindi l'inserzione omerale penso che tu debba rivedere l'esecuzione di panca piana penso che ti serva un kit di antinfortunistica questa è la mia diagnosi io penso che tu abbia una tecnica di panca piana foriera di infortuni e penso che tu non abbia nessun esercizio bilanciatore per continuare serenamente a fare panca piana ti consiglio delle coaching Davide ciao Marco scusa la domanda che esce dall'argomento fare military press separato dalla panca allora ragazzi military press non è un an answer della panca piana ok il military press è un esercizio per trapezio deltoidi e tricipiti la panca piana è un esercizio per pettorali deltoidi anteriori e tricipiti non c'è una sinergia non c'è una catalisi non è che il military press vi catalizza della panca piana il corpo reagisce e si adatta in maniera specifica buonasera Marco in un periodo di ipertrofia cosa no scusa un secondo ritornare alla domanda di prima military press separato dalla panca ma allora sì allora se ne risente la military press non è attinente alla panca se lo alleni in giorni diversi della panca stai sottraendo frequenza alla panca quindi non è che il military press di per sé è nocivo alla panca quello che è nocivo alla panca è l'abbassamento della frequenza specifica sulla panca dicevo Alessi buonasera in un periodo di ipertrofia cosa ne pensi dello stacco in modellità 4x10 o comunque 4x10 se sei proprio un principiante assoluto hai bisogno di automatizzare il gesto di lavorare proprio sullo schema di base posso anche capirlo ma poi mi parli di ipertrofia cioè io stacco in 4x10 forse negli atleti più avanzati un 4x10 con i mezzi stacchi alla Craig Titus o la Porter Cottrell potrebbe anche avere un senso ma se mi parli di stacco vero e proprio il 4x10 devi essere veramente una sola pazzesca io posso concepire il 4x10 in esercizi di isolamento su un atleta intermedio ma il 4x10 li stacco da terra ragazzi non so neanche cosa risponderti mi sembra una roba non so neanche se è uno scherzo questo Roberto Tracchi altro problema esterno che scrocchia fortissimo e spesso dolore tra costa esterno questo è un problemino mica da poco si vede che sei piuttosto rigido fai poco arco in panca piana e lo sterno tende a spingere all'interno quando c'è una compressione toracica che va a chiudere la cassa toracica forse dico forse forse potresti soffrire di esterno scavato però non ti ho visto Fabrizio cosa ne pensi del film Undisputed il primo con questi snipes è carino gli altri sono delle cagate mostruose secondo me è opinione personale Dark Red Marco è normale che allenandomi con parecchio buffer dopo un mese di stop ho perso 40% della mia forza ma se tu hai fatto un mese di stop cosa volevi gli applausi porta pazienza hai fatto un mese di nulla un mese di nulla non è che potevi tornare più forte dai disco duca chi sono i tuoi giornalisti preferiti io non ho giornalisti preferiti io seguo alcuni opinionisti giornalisti influencer per tenere allenato il mio loquio per tenere allenato la mia scrittura per tenere allenate le mie capacità di comunicazione ma al momento non seguo nessun giornalista per i contenuti che porta ecco sinceramente posso dirti Andrea Scanzi per come scrive Vittorio Sgarbi per il suo repertorio repertorio di insulti posso dirti ma veramente ormai posso dire sinceramente che io penso che siamo un'epoca veramente desolante in quanto la comunicazione per lo stile anche travaglio interessante ma ripeto non per i contenuti non per i contenuti per lo stile per il loquio ma non non certo per quello che dicono Giacomo Iacchi 5x5 ho fatto un video riguardo Riccardo secondo te 120 di panca piana in monofrequenza con poco arco ma non so qua ad Arpagelli ragazzi non mi interessa ecco Aldo Busi è un ottimo ottimo conferenziere Aldo Busi eccellente oratore eccellente oratore grandi conferenziere grandissimo e l'opio vocabolario molto ampio e poi mi accusano di essere omofobo di essere Aldo Busi è un omosessuale dichiarato io rispetto di fronte alla sua prosa alla sua scrittura al suo parlare io porto grande rispetto piccione Marco con due protusioni di scali è comunque possibile fare esercizi come stacco e squat se il medico ti dai nulla osta io posso anche seguirti nell'allenamento di questi due esercizi io ho purtroppo subito in passato delle protusioni di scali D12L1 poi L5S1 poi neanche qualcuno penso la cervicale neanche mi scrocchia il collo ma io ho serenamente staccato 272 kg pur avendo delle protusioni dipende dalla tecnica di esecuzione e da quanto rinforzi i muscoli che proteggono i corpi vertebrali e ovviamente ovviamente di riflesso che proteggono gli anelli fibrosi dark red preferisce accumulare volume principalmente nei fondamentali o dipende dal periodo dipende dal periodo io ho periodi in cui faccio intensità folle puntando tutto su frequenze carico e altri in cui si saurisce questo tipo di stimolo cioè non è più efficace devo passare a meno frequenza e più volume ma sono cicli naturali che io ho sempre assecondato Marco Contu cosa consigli pre-nanna madre buon vecchio sesso dovrebbe rilassarti Mike 5 Mike A005 non mi interessa parlare di quella persona per cortesia non fammi più la stessa domanda Andrea Girolami ho una protusione di scale pauci ernaria erniaria ma prima di tornare a caricare sulla schiena ho fatto ginnastica posturale per due anni due anni ti hanno preso a sprangati nella schiena due anni di ginnastica posturale è ridotto malino direi maluccio stata che melatonina si ottimo precursore dell'ormone del sonno la melatonina funziona dopo un po' che la si prende l'effetto sortito è un pochino meno è un pochino ridotto Mauro Greco i risultati ottenuti da te punk military eccetera pensi siano abbordabili da un po' da tutti o bisogna avere caratteristiche particolari ragazzi io ho anche un pettorale strappato il destro se avessi il pettorale sano avrei fatto molto di più io ho clienti sani senza strappi che mi hanno serenamente superato in punk e military press io sono solo un umile umilissimo messaggero il mio modesto fisico il mio corpo è soltanto un campo di battaglia solcato da varie ferite che ha prodotto quello che poteva finché poteva Andrea Giambo ciao Marco il metodo ideato da Helms lo reputi un buon programma non intendo parlare di Eric Helms ho visto qualche sua scheda non ho letto i suoi libri quindi non mi pronuncio sentivo il fitness decantarlo come uno dei cinque saggi del nato nel bodybuilding io non ne conosco neanche uno di questi cinque saggi io mi faccio un mazzo così tutti i giorni senza mai udito di questi di questo collegio di cinque saggi ho visto qualche programma di Eric Helms e non mi sono alzato dalla sedia urlando di sorpresa o di gioia quindi non poi per carità c'è chi ritiene questo Helms un guru va bene a fare i suoi Simone SB in una norma calorica prolungata ci sono guadagni a livello muscolare ma sì di norma sì soprattutto sui principianti in atleti intermedi ci possono essere se si fa un upgrade sulla qualità della programmazione e della tecnica di esecuzione Johnny Mosk Marco con la laurea in scienze motorie potevi fare il prof di educazione fisica no io soltanto io ho la triennale per fare il prof nei licei o nelle scuole medie serve proprio la quinquennale e il diennio seguente il triennio non mi ha stimolato a continuare c'erano argomenti che non mi interessavano direttamente quindi piuttosto che fare un lavoro a contatto con dei ragazzi giovani nel quale non credevo ho preferito lavorare nel privato massimo rispetto comunque per i professori che ho conosciuto io ho fatto anche un tirocinio io sono stato anche insegnante alle scuole medie come tirocinante ripeto non di ruolo né tanto meno come supplente forse non ho neanche quell'empatia non ho neanche quel quel calore umano che deve avere un vero didatta professionista verso i ragazzi e questa purtroppo è una cosa che devo ammettere con il mio suo morammarico Erika e Omar cominciamo con benissimo cominciamo con i pluri omicidi reinventati su youtube come ti trovi con questa panca d'alto ognume vabbè dai Erika con tutta la stima e la simpatia vai a fare in culo vai a fare in culo Luca T quali sono gli obiettivi di carico che in relazione al peso corporeo può porsi uno skinny fat ectomorfo non diceva cosa cazzo siamo skinny fat ectomorfo sei un secco con la pancetta skinny fat ectomorfo questo è il linguaggio delle nuove leve brave new world proprio ti consiglio di andare in miniera e picconare il carbone così vedrai che dimagrisci e metti su qualche muscolo no scherzo no scherzo dovrei valutarti con un'anamnesi dovrei vedere un po' come sei messo a livello anche strutturale a livello grafico quanti anni hai che lavoro fai per cercare di raccapezzarmi insomma alessi scusa se ritorno sullo stacco 4x10 intendevo tipo un 30-40 del massimale per pompare che cazzo devi pompare la bicicletta devi pompare non so cosa risponderti non so neanche da come scrivi io mi chiedo se tu abbia mai sollevato un peso in vita tua quasar wireman Marco ti prego fai a pezzi sta cosa del somatotipiche ne pensi no devo fare a pezzi nulla io esistono sostanzialmente tre categorie di rappresentanza endomorfo mesomorfo ed ectomorfo chiaro che è molto difficile trovare dei morfotipi puri che l'endomorfo assoluto l'ectomorfo assoluto più che altro sono condizioni di partenza non modificabili se non c'è soluzione non c'è neanche il problema se tu sei alto 1,60 e vuoi fare il pivot nell'NBA cosa puoi fare ti fai allungare le tibie ti fai mettere degli innesti nei femori nelle tibie ti allunghi di statura puoi provarci io non lo farei Pol Pot trovo veramente ridicolo mettere nomi di pluriumicidi solo per far ridere su YouTube opinione condivisibile Simone SB conosci la Viking Press per le spalle no purtroppo non conosco questo questo esercizio con le spalle Logan che musica ascolti mentre ti alleni attualmente del rap russo che mi ha fatto conoscere è un mio allievo russo Miyagi e Andy Panda mi piace molto la canzone Cassandra mi piace anche la canzone Jumanji questo è questo è quanto Quasar Quasar vabbè vabbè vadano non lo so però penso 80.000 account pronti a essere utilizzati quindi è inutile cercare di bloccarlo è di Francisco ciao Marco alleni anche i dopati se si come adegui i programmi di allenamento intanto non mi piace l'etichetta i dopati i dopati e i natural ci sono persone che utilizzano prodotti persone che utilizzano prodotti in quantità smisurata e persone che come me non utilizzano nulla io ho allenato persone che avendo staccato con i prodotti avevano bisogno di routine più solide per mantenere livelli di forza meno accettabili poi quando ritornano a utilizzare prodotti io posso ancora seguirli però poi tendono a fare di testa loro e io qua non posso neanche per di tanto insistere Quasar vabbè cosa ne pensi dell'ultimo disco di noise immagino che tu ti riferisca a noise narcos l'ultima canzone che ho ascoltato di noise era il dissing lobo poi non è neanche un dissing era una traccia che lui ha rifatto facendola passare per dissing comunque molto bella lobo molto bella la base di noise narcos io l'ultimo album che ho comprato era monster stupende basi basi molto buone poi da quando è uscito dal truce clan non ho più tanto seguito sinceramente comunque non sono un non sono un cultore rap so qualcosina pol pot cosa ne pensi dell'ultimo disco di Gigi D'Alessio non l'ho sentito Andrea Giambro sto cercando dei testi riguardo alla forza puoi darmi qualche dritta qua ti consiglio il testo di Arnaldo Ornoldo Gruzza denominato il metodo distribuito assieme a quello ti consiglio il testo di Paolo Evangelista DCSS Enrico Massocco metodo vulgaro applicato a dip e trazioni io l'ho applicato al dip e alle CINAP e ho avuto ottimi risultati soprattutto nei CINAP ho sollevato me stesso più 66 kg in cintura per una ripetizione completa dalla totale distensione delle braccia fino alla totale chiusura passando il mento oltre la sbarra eh lo so Giorgio DCSS è introvabile pare che anche il libro di Gruzza sia introvabile io me li sono accaparrati finché erano disponibili purtroppo siamo in un'epoca in cui leggere libri è ormai impossibile ci si deve orientare con gli ebook ci si deve orientare con brandelli di informazione raccattati chissà dove e questo rende ancora più necessaria e imprescindibile una consulenza con una persona che abbia raccolto i dati e li possa fornire già filtrati non vuole essere una marchetta perché voglio fare il venditore di nulla però le cose stanno così ecco Thomas Bledger buonasera Marco tricipiti meglio allenare con il militare presso con il cavo ti ubriachi prima con il whisky o con la birra odin cinema miglior divisione per quattro giorni allenamento ho fatto un video su Patreon il penultimo proprio sulla split routine frazionata in quattro parti in monofrequenza un video molto riuscito che ti invito a guardare su Patreon lascerò comunque il link in descrizione il link in descrizione al termine di questa live Simone SB il nostro campione italiano di braccio di ferro Hermes Gasparini è uno dei top five al mondo mio fratello mio fratello Francesco ha una foto con Hermes Gasparini che è un colosso è veramente una lavatrice con le scarpe è pazzesco e non faccio fatica a credere che sia nella top five quasi a guai a me il marco potresti fare anche su YouTube il video sulla simetria per favore ma vai su Patreon io non parlo di asimetria su YouTube se no arrivano in stormo disturbatori vari e non ho neanche più voglia di cancellare i commenti vai su Patreon una spesa trascurabile che garantisce informazioni dirette di qualità senza pubblicità senza interferenze vai su Patreon il costo è veramente abbordabile DJ Faxer Marco perché nel bodybuilding le trazioni e la sbarra sono solitamente poco usate intanto non è vero in secondo luogo la tua osservazione nasce dal fatto che i bestioni bombati di 130 kg non le fanno comprensibile è molto più comodo per loro fare il pull down perché massa e superficie hanno una proporzione tale per cui più diventi grosso più fai fatica a gestire il tuo stesso carico senza parlare poi del surriscaldamento allora ai tempi di Mike Manzer ai tempi di Arnold ai tempi di Frank Zane di Sean Ray era normale fare le traduzioni nella sbarra perché non c'erano questi dinosauri pieni di insulina dove di oggi quindi era normale praticare le trazioni e la sbarra magari con sovraccarico Pier Venturato racconta nei suoi video nelle sue epopee di trazionare con 20 kg in cintura per diverse ripetizioni e che però Pier Venturato pesava in gara 85 kg vi faccio un esempio ancora più pratico così capiamo allora una formica può sollevare fino a 50 volte il proprio peso uno scarabeo stercolario fino a 500 volte il proprio peso un elefante può sollevare il grande elefante bianco può sollevare mi pare il 25% del suo peso quindi sicuramente un elefante bianco solleva di più di uno scarabeo come chilogrammi ma il rapporto al proprio peso alza molto meno quindi più aumentano le dimensioni del corpo del praticante più questo praticante ha un corpo ingombrante più è difficile utilizzare con profitto esercizi connessi collegati al sollevamento del proprio carico ponderare del proprio peso corporeo logan secondo te sarebbe possibile un connubio tra bodybuilding e pugilato parlando di allenamento puramente amatoriale è possibile un connubio tra qualunque cosa raggiungere poi l'eccellenza è un altro discorso adesso il weightlifting giapponese che scuola usa vedo spesso i video di Toshiki Yamamoto su youtube il weightlifting giapponese il weightlifting è il weightlifting strappo slancio non c'è un weightlifting giapponese forse mi vuoi parlare di scuola di pensiero scuola di allenamento ma io il weightlifting è uno pediatra paola ciao marco ciao enrico pediatra paola ricordo tutti i ragazzi pediatra paola che è quel pirata incursore che commenta in modo velenoso sotto i vari video non è che si chiama paola veramente è un signore molto in forma di 60 passa anni che si chiama Enrico quindi questo è quanto da quanto ho capito ha usurpato l'account della moglie che fa la pediatra peraltro Enrico lo conosco personalmente è una persona piuttosto seria quindi non è una donna non è una ragazza è un un roccioso sessantenne che ancora oggi si allena e fa la dieta Andrea Girolami Simone ah no stai parlando con Simone Mauro Greco lo stacco da terra potrebbe essere utile per un kickboxer o un tieboxer dipende lo stacco sumo secondo me si fatto in un certo modo si assolutamente si però non voglio lanciarmi in analisi tecniche dettagliate dj faxer quale strategia di allenamento ti ha fatto ottenere i risultati più importanti in assoluto sotto il profilo ipertrofico sinceramente il mio metodo sinceramente il mio metodo io ho provato anche le varie split a volume le vidiuti se volete grossi muscoli dovete alzare grossi pesi e per alzare grossi pesi vi servono programmazioni per la forza poi tutto il discorso dell'estetica della body recamp dell'estetica agonistica poi è un altro discorso just roman domingo poliandri ha detto che il powerlifting è il migliore come allenamento totale per tutto io penso che neanche neanche domingo possa arrivare a dire una stronzata del genere spero che non l'abbia detta ma ormai non mi sorprendo più di nulla ragazzi quindi boh data che è vero che la pesistica non ci sarà più le olimpiadi ho sentito anche la stessa cosa per il pugilato non so se sarà vero non so se si verificherà scusami non so se si verificherà questo evento ma sarà un giorno molto triste per tutti truce baldazzi ma la sera marco se ti piace il rap vai ascoltarmi un pezzo migliore vendetta vera non so se non penso che tu sia il vero truce baldazzi per me tu sei quel povero rincoglionito scappato di casa mentale di roberto maligni però truce baldazzi ha fatto dei bei pezzi truce baldazzi ha fatto un pezzo sulla sua ex fidanzata e mi ricordo l'epilogo in cui incendiava la palazzina che poi esplodeva con tanto di effetti speciali va bene non mi ricordo il titolo però è proprio vecchio allora dj fox una recensione veloce su franco columbu non mi occupo di franco colore è morto poveretto non mi sembra neanche il caso strength and martial arts passion cosa ne pensi dello street lifting molto fresh molto cool secondo me è il futuro degli sport di forza secondo me scusate sarà il futuro degli sport di forza il power lifting ha aperto la strada a uno sport di forza popolare con una soglia di ingresso accessibile e penso che lo street lifting sia la naturale evoluzione del power lifting ci vorranno altri vent'anni suppongo però io vedo questa strada tracciata in questo modo disco duca tuo fratello fa palestra mio fratello fa power lifting ha fatto di recente una gara di stacco la king of deadlift ha preso un podio e no non fa bodybuilding fa power lifting truce baldazzi pediatra paola vabbè andrade felice karate shotokan karate shotokan di gicin funakoshi non mi fa impazzire come disciplina secondo me è poco utilizzato dai professionisti ah qua è scoppiato un dissing tra pediatra paola e truce baldazzi pediatra paola ti andrebbe di mettere in forma anche a me ha preso 160 kg per 1,80 m hai un po' di consigli la risposta di no truce tu ti attacchi al cazzo giustamente 160 kg per 1,80 m hp più 80 in effetti allora odin cinema pensi abbia un senso un allenamento focalizzato sull'avambraccio dipende dalla tua disciplina dipende se fai bodybuilding ti dico che l'avambraccio non è valutato nelle competizioni se fai pesistica powerlifting la presa è molto importante ma non tanto la circonferenza dell'avambraccio quindi francamente non lo so direi di no malito mussolini l'allero proprio mauro greco secondo te essere forti negli esercizi di tirata è utile negli sports da ring negli sport da ring è utile picchiare forte e picchiare forte a lungo questo è quanto ragazzi ultimi 5 minuti poi vi lascio Alessandro Muratori Marco pensi che il tuo metodo bulgaro rivisitato possa adattarsi anche sui macchinari invece che usare i bilancieri per avere più transfer suipertrofia meno fatica sistemica allora fatica sistemica non si può ascoltare ipertrofia nel 2022 non si può ascoltare esiste lo sviluppo muscolare ed esiste lo sviluppo coordinativo fare bulgaro alle macchine io chiedo anche scusa ad Abagiev nell'alto dei cieli se mi sta ascoltando penso di no ma no non esiste nulla di tutto questo mi dispiace no proprio non posso neanche risponderti perché siamo veramente fuori dal seminato Alessio comunque il sumo da quello che ho potuto percepire lavoro molto poco i femorali beh se vuole indolenzimento ai bicipiti femorali ti fai lo stacco rumeno e il leg curl in super serie e comunque la storia dura poco perché ti viene una volta poi il corpo si adatta e non ti viene più quindi anche qua sentire i muscoli è sempre la stessa storia questo è il solito eterno discorso della carne greve del giorno dopo dei doms dei dolori del giorno dopo ragazzi se volete i dolori stiratevi i muscoli tipo i pettorali li fate con le croci in aperture pesanti i femorali li fate con lo stacco rumeno i glutei con gli affondi camminati se il vostro termometro per la crescita sono i doms fate una bella subfrequenza fate esercizi di allungamento caricati belli e pesanti con tanto volume quindi con tante serie vedrete che sarete contenti che poi questo si traduca in crescita muscolare effettiva è tutto da vedere solo me hai mai praticato crossfit no non l'ho mai praticato crossfit lo rispetto come disciplina come rispetto qualunque disciplina che sfoci nell'agonismo però no non l'ho mai praticato DJ Faxer perché non si può ascoltare fatica sistemica non so se tu hai mai visto il film Shawshank Redemption con Morgan Freeman rinominato in italiano le ali della libertà è una parola vuota una parola che non significa nulla una parola creata perché dei giovani possono avere un lavoro questo è quanto fatica sistemica la fatica è inerente al sistema immagino che sia il sistema neuromuscolare la fatica è inerente a una persona che fa un lavoro pesante la fatica sistemica non si capisce cosa sia il sistema neuromuscolare che sia fatica cioè fammi capire il cervello non riesce più a emettere scariche di elettroni alla placca motrice non è fumo negli occhi sta roba non ha nessun senso poi mi rendo conto che tu sia purtroppo succube di questa sottospecie di propaganda quindi io non voglio neanche insistere ripeto sono tutte opinioni personali adesso non voglio che arrivino i professori del weekend a dare il loro parere ma la fatica sistemica non so neanche di cosa stai parlando Andrea Bonatti il neurale credo voglia dire ma sempre lì questa è la neolingua del cazzo che vi hanno spinto con lo scopino del cesso giù per la gola ragazzi io non so neanche io non so neanche perché sono ancora su youtube la piattaforma ormai più morta di Elvis Presley io non meglio che chiudo va là 58 minuti allora Logan film preferiti sì passiamo sul leggero che è meglio andiamo sul leggero film preferiti io mi sono anche visto l'ultimo Matrix e Roberto Soffioni ciao Marco so che dopo che li hai definitivamente accantonati ma ti so cosa ne pensi di Claudio Tozzi e Stuart McRober allora Tozzi intanto grazie per la tua donazione apprezzo molto e Tozzi grande divulgatore ventaglio molto ampio su la nutrizione sulla dieta Tozzi è tuttora molto più focalizzato sull'integrazione e sulla dieta rispetto che al training quindi Tozzi è una miniera di informazione per quanto concerne la micro integrazione quindi l'integrazione è basata sui micronutrienti vitamine aminoacidi e quant'altro lì devo dire che la sua preparazione è impareggiabile e imbattibile mc robert è semplicemente secondo la mia opinione opinione è uno svitato britannico che vive a cipro che ha creato un sistema di allenamento che fa ridere anche i i comatosi in coma farmacologico il suo sito purtroppo ho letto ho comprato i cedì e nei tempi ragazzi non c'era altro mi sono comprato brown beyond brown tutta quella carta igienica patinata niente mc robert è il figlio del doping cioè mc robert è uno che ha detto ragazzi i campioni di flex sono dopati allenate di meno ha detto questo e quindi proponeva quei suoi allenamenti breathing squat di piedi raider squat 20 ripetizioni alternare cos'è fare alternare due giorni la settimana di allenamento ma penso che ormai mc robert abbia superato i 60 50 anni di sicuro superati penso che sia serenamente pensionato e face forse professore di ginnastica a cipro non lo so quanto hanno influito hanno purtroppo influito tanto sulle mie disavventure fisiche perché mc robert si era erto paladino della tecnica alla mia quando ero ragazzo io l'unico libro di tecnica di esecuzione disponibile era il suo proponeva una panca piana che era raccapricciante non alzavi un cazzo con quella tecnica io per io quando ho capito questo ho puntato la strada opposta ho spalancato la presa mi sono rotto in gara un tendine pettorale e gli ho capito che mc robert era nient'altro che una costosa risma di carta igienica questa è la mia opinione personale personale opinione personale non rompetemi ok non voglio essere trascinato in tribunale per essere sottoposto a giudizio da parte di qualche adepto o roba del genere di questo mc neutro roberts 60 minuti ragazzi direi che è tutto live terminata grazie per la vostra compagnia grazie per il vostro supporto grazie a nino grazie a chiunque abbia dato il suo tangibile supporto e alla prossima marco pt out